ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale oggi breve video vlog per aggiornarvi su una novità che mi riguarda direttamente e che mi sta elettrizzando tantissimo infatti mi sono iscritta al corso di primo livello della truccheria di makeup forever e lo frequenterò appunto domani che domenica e dopo domani i corsi della makeup forever organizzati appunto dalla truccheria di bologna possono essere frequentati o singolarmente come farò io oppure in maniera intensiva per una settimana a bologna per motivi logistici a me viene più comodo fare così seguire i corsi separatamente per cui inizierò dal primo livello che riguarda le tecniche di base del makeup il trucco correttivo il trucco da giorno il trucco da sera mi avvicinerò a questi fantastici prodotti che conosco solo di fama e avendoli visti sul web e quindi sono appunto molto elettrizzata non so se l'ho già detto ma dopo il corso farò un video dove vi spiegherò tutto cercherò di fare per quanto mi sarà consentito più foto possibile per documentare il tutto e insomma spero che mi seguiate anche in questa avventura per cui ragazze io adesso vi lascio devo andare a lavare i pennelli in quanto al corso occorre portare i propri pennelli mi verranno fornite uno o due modelle quindi metterò proprio le mani in pasta e sarà un modo proprio per mettermi alla prova e approfondire la mia grande passione per il makeup vedremo come andrà io vi ringrazio per aver seguito il video spero mi sostegnate anche in questa avventura e ci vediamo presto alla prossima occasione se vi fa piacere un bacio ciao